Da domani si riparte, lo ha detto anche il Presidente del Consiglio Draghi. Da domani si riparte, quindi gli obiettivi rimangono gli stessi, si recupereranno questi tre giorni che sono rimasti indietro e quindi si procede con la vaccinazione dei nostri anziani, dei fragili e delle categorie per età a scendere.